Allora, il sindaco uscente è il nostro Mauro Favilla, tu sei venuto per sostenerlo? Mauro Favilla è stato un bravo sindaco e questo è già un motivo per la sua riconferma. Sono convinto che i lucchesi lo sceglieranno di nuovo perché in questi cinque anni ha dato prova di capacità amministrativa, di competenza tecnica e anche di onestà. L'onestà da sola non è il requisito per governare ma è bene che ci sia ed è indispensabile anzi che ci sia. A questa lui ha saputo abbinare una capacità di fare che rappresenta il valore aggiunto di tutti coloro i quali vogliono governare una città, non con le chiacchiere ma con i fatti.